ma lo scenario è gli Stati Uniti vogliono entrare in Asia, i cinesi vogliono controllare la striscia di mare per buttare gli americani al largo del Pacifico in modo da avere terra-mare contigua. Questa è la partita geopolitica che è in atto attualmente e di questo parleremo, ve l'ho voluto anticipare per non lasciare il discorso troppo astratto. Comprendete come con l'uso di queste categorie tutte le questioni assumono una loro valenza e una loro solidità diversa, al di là dell'ideologia, al di là dei rapporti occasionali. Dunque questi sono i principali punti di orientamento, detti ancora in termini, come capite, abbastanza generici. Questa chiave di lettura dura fino alla Seconda Guerra Mondiale. Fino alla Seconda Guerra Mondiale la geopolitica, tutta la geopolitica e tutta la storia globale fino alla Seconda Guerra Mondiale è basata su questo. La grande competizione marittima tra Giappone e Stati Uniti nell'Oceano Pacifico, la grande competizione tra Russia, Germania e Inghilterra nello spazio euro-atlantico. Questo è il fondamento della questione. C'è a questo punto la formazione di una geopolitica tedesca. Questo dovete starci attenti perché è importante. Perché la concezione della grande potenza di terra, una volta che nel 17 scoppia la rivoluzione in Russia e si forma l'Unione Sovietica e la Germania non è distrutta, ma anzi attraverso il nazismo rapidamente ricostruisce una propria potenza, in Germania nasce con Aushofer, che è l'equivalente di McKinder sul terreno della geopolitica di terra, nasce la teoria dei grandi spazi. Ma non è la Russia il vero divenuta Unione Sovietica, cioè una rivoluzione slava che ha mescolato insieme cose eterogenee, che non è destinata a esprimere grande potenza. No, ma è la Germania, grande potenza militare, non sconfitta nella prima guerra mondiale, che con l'impulso del nazismo e con la nuova geopolitica di Aushofer, dei grandi spazi, si propone di uscire dalla retta dimensione tedesco-europea e di guardare proprio ai grandi spazi che ci sono in Asia. Chi sta in Germania e sta a Berlino, in realtà non guarda a Parigi, non guarda a Londra, che è roba piccola, guarda ai grandi spazi che stanno dall'Ucraina, dalla Bielorussia, dalla Polonia e arrivano fino alle grandi montagne che dividono l'Asia e poi oltre arrivano fino in India. E Hitler in realtà si fa condizionare da questa visione geopolitica ed è questo che spinge la Germania nazista all'impresa della Seconda Guerra Mondiale e la fa passare dall'accordo Ribbentrop-Molotov, che è di politica estera, di alleanza quindi con la Russia, invece a una vera e propria azione di distruzione dell'Unione Sovietica e di sostituzione con il potere di Berlino che controllava tutto lo spazio terrestre. Questo era il grande, il grande, tra virgolette, il grande disegno della Germania nazista. Spikeman, già nel 42, dice quando gli Stati Uniti vinceranno la guerra e la vinceranno solo se sostituiranno come asse centrale non più l'Irtland per leggere gli equilibri dello spazio globale, ma dovranno leggerli orizzontalmente. e la categoria orizzontale dello spazio lui la chiama Rimland e il Rimland è quella mezzaluna che si forma se voi partite da Inghilterra e paesi del nord Europa, Svezia, eccetera, e scendete verso l'Europa centrale, arrivate in Turchia, in Persia, e poi risalite dall'India e arrivate alla Corea del Nord. La mezzaluna fertile, un intercapedine di spazio tra terra e mare. È questo lo spazio decisivo, dice Spikeman. È quello lo spazio che gli Stati Uniti devono in qualche modo presidiare, perché è uno spazio che sfugge all'Unione Sovietica, fa parte della terra ed è uno spazio che si può controllare dal mare. Nasce tutto l'equilibrio del bipolarismo che finisce nell'ottantanove, finisce cioè con la disintegrazione dell'Unione Sovietica, che non avendo capito il senso di questa nuova visione geopolitica, e cioè non avendo compreso che in realtà non controllando il Rimland era destinata all'implosione, in realtà è costretta poi a disintegrarsi. E la dimostrazione dell'importanza del Rimland, non solo perché è questa che dà la base geopolitica alla teoria del containment di Kennan, degli americani. Il contenimento, cioè tenere l'Unione Sovietica dentro i suoi i suoi confini, derivava da questa, da questa visione geopolitica. Non far scendere in India, in Iran, in Turchia, ecco perché la Turchia fa parte della Nato, non far scendere l'Unione Sovietica in questo zoccolo, perché se scende in questo zoccolo poi a sua volta gli Stati Uniti sono costretti ad arretrare dal mare e andare verso le acque blu, come si dice, cioè verso il mare profondo, perdendo i contatti con la terra. E invece gli Stati Uniti, e qui nasce l'altra contraddizione, e invece gli Stati Uniti devono a loro volta, devono a loro volta utilizzare il Rimland per mettere, come dicono i militari americani, gli scarponi in Asia. Perché quello che tu non puoi fare con l'Irtland, lo puoi fare invece con Rimland. Tu controlli il mare e controllando il mare tu sei in grado di mettere i piedi dal Golfo Persico, di mettere progressivamente i piedi nello spazio asiatico, cioè entrare nel cuore della potenza avversaria. Le guerre, capite bene, immaginate la cartina geografica, io invito sempre a queste cose a farle con la cartina geografica, quali sono state le guerre del periodo del bipolarismo? Non è che è difficile. La Corea, che è il punto terminale del Rimland. Il Vietnam, che è il punto centrale. La questione dell'Iran, la sostituzione della potenza inglese in Iran con Reza Palevi, la più grande vittoria degli americani. E qual è la loro più grande sconfitta? La Yatollah, che sostituisce Reza Palevi e caccia via gli Stati Uniti dall'Iran. E' matematica la cosa. E' matematica questa fase. Io concludo soltanto con un riferimento che poi riprenderemo. Accanto a questi aspetti che, come capite, sono legati più squisitamente al sistema politico, diplomatico, militare delle relazioni internazionali, c'è un altro elemento importante dell'evoluzione della geopolitica. Quando finisce il fordismo, e cioè alla fine degli anni settanta, in pratica i principali attori iniziano a elaborare delle formule di capitalismo e quindi delle formule di relazioni economiche internazionali, diverse da quelle basate sul grande ciclo rusveltiano, quelle basate sulle grandi imprese, sulle multinazionali e così via, sulla finanziarizzazione, e cominciano invece a muoversi in una logica spaziale. E cioè dalla grande fabbrica fordista, che concentra e sussume tutte le risorse e poi, come una specie di ragno, controlla gli spazi commerciali, si passa sempre più chiaramente, nelle due, tre grandi economie capitalistiche che riflettono, a una concezione spaziale dell'economia. La geoeconomia è un passaggio fondamentale, un tassello fondamentale per capire la geopolitica di oggi e anche il suo ruolo predominante. Che cos'è la geoeconomia? La geoeconomia è il risultato di un capitalismo che non è quello finanziario, cioè non è lì il punto importante, non è quello finanziario, quello speculativo, no, è il capitalismo che conquista attraverso quelle che noi oggi chiamiamo le catene del valore, che conquista progressivamente il controllo continuo dello spazio, del territorio. È la Germania che conquista l'Europa dell'Est economicamente, col decentramento, con l'innovazione tecnologica trasferita in quei paesi, col rapporto tra industria della madrepatria e segmenti decentrati, che con gli hub e così via. Due poi sono le grandi rivoluzioni che la geoeconomia mette in moto con questo meccanismo. La rivoluzione dei trasporti, fondamentale. E la rivoluzione dei trasporti significa il ritorno della centralità dello spazio, cioè le infrastrutture. La connessione euro-asiatica tra Berlino e Pechino è basata sulle ferrovie ed è Schroeder e i leader cinesi che dal 2002-2003 si sono visti decine di volte per mettere in campo la costruzione dei grandi corridoi infrastrutturali che legano la Germania alla Cina. Dunque, rivoluzione dei trasporti che va di pari passo con i containers sul mare, sulle grandi rutte marittime. La rivoluzione dei trasporti, quindi il controllo dello spazio, non del tempo, dello spazio.